Per quanto riguarda la terapia ormonale, quindi la terapia e la visita e tutto l'iter di follow-up endocrinologico è di fondamentale importanza, prima di tutto l'iter di affermazioni di genere, ma anche successivamente, perché comunque si è esposti a terapia ormonale per tutta la vita. Un uomo trans dovrà assumere testosterone, una donna trans dovrà assumere antiandrogeni ed estrogeni per tutta la vita per modificare i caratteri sessuali e quindi renderli per la donna trans più femminizzanti, ad esempio la riduzione della crescita dei peli corporei, l'uomo trans, la crescita della barba e quant'altro. È chiaro che la somministrazione prolungata per tutta la vita, ad esempio degli estrogeni, può esporre a patologie cardiovascolari, quindi è sempre necessario un opportuno follow-up e monitoraggio da parte dei medici specialisti. Il fai-da-te è estremamente pericoloso.